Yo! Iniziamo! Così! Avanti! 3, 2, 1, via! Siete pronti a bruciare tante calorie e ad ottenere la migliore forma fisica di sempre? Volete perdere centimetri e trasformare il vostro fisico? E che ne dite di avere finalmente degli addominali scolpiti? L'ho sentito sicuramente sugli addominali, ma anche in altre zone. Ho lavorato anche sugli obliqui. Già! Preparatevi a scoprire il nuovo incredibile programma fitness pensato per uomini e donne che vogliono mettersi in forma in fretta con nuove sfide per il corpo. Scoprirete come Obsidian cambia tutte le regole del fitness grazie ad allenamenti Elimina Grasso che sollecitano nuovi muscoli. Vi offre un allenamento completo per tutto il corpo. Il segreto è la tavola Obsidian, una superficie a basso impatto che dà grandi risultati e vi farà sentire benissimo. Da ora, mentre vi allenate, brucerete molte calorie e l'azione combinata creerà nuovi tessuti snelli in tutti i muscoli inattivi, quelli che non vengono sollecitati con gli altri esercizi. Restate con noi per scoprire come potrete ridurre i centimetri dal vostro corpo in soli 30 minuti al giorno, tre volte a settimana. Ho perso 10 chili sinora. Ho perso 14 chili e mezzo in tre mesi usando Obsidian. Obsidian ha una serie completa di movimenti dinamici combinati per allenare l'intero corpo. L'allenamento è incredibile. Oltre 100 esercizi per sollecitare le diverse aree del corpo. Potrete perdere chili tonificando e scolpendo gli addominali, le cosce, le gambe e la parte alta del corpo. Scordatevi la noia e aumentate la vostra autostima con un sistema fitness completo che offre risultati veloci in soli 3 giorni a settimana. Volete bruciare tante calorie? Allora è giunto il momento di scoprire Obsidian, l'ultimissima tendenza fitness che offre risultati veloci in un modo completamente nuovo. In un'ora alleni tutti i muscoli del corpo. Il battito cardiaco è alto ma allo stesso tempo stai mettendo sui muscoli. È davvero ottimo. Questi esercizi sono perfetti per scolpire i muscoli accessori e personalizzano la silhouette. Dunque perché perdere tempo con esercizi cardio sul tapirulan quando potete fare potenziamento su un dispositivo completo, bruciando calorie e incrementando i muscoli con Obsidian? E perché spendere 500 euro per un tapirulan e altri 500 per un attrezzo di potenziamento? Ordinate subito e includeremo il DVD per addominali scolpiti del valore di 25 euro completamente gratis. È un'offerta in esclusiva per la tv che non troverete nei negozi, quindi dovete agire subito. Non otterrete i glutei che desiderate rimanendo seduti sulla poltrona. Dunque preparatevi subito a trasformare il vostro corpo con Obsidian. Chiamate ora!